Quando sei entrato tu con Gaston Bruggemann che è andato a fare il metodista e il Pescara ha costantemente preso campo giocando meglio? Ma ho cercato, quando il mister mi ha chiamato in causa, ho cercato di dare del mio meglio e probabilmente avevamo bisogno di un po' più peso a livello di inserimenti o comunque portare avanti la palla secondo me da quando sono entrato io abbiamo fatto buone azioni, potevamo trovarlo prima che abbiamo avuto altre 2-3 palle e gol prima però secondo me sono contento del mio ingresso in campo, potevo anche fare gol però sono contento sono anche contento della squadra che abbia vinto perché è stato un risultato molto importante Si dice che le vittorie sofferte sono le vittorie più belle, questa è stata una vittoria sofferta Quanto valgono questi tre punti? Valgono tanto perché ci danno soprattutto continuità perché le altre vittorie sono state interrotte sempre da una sconfitta o comunque da un passo falso e quindi fare due vittorie consecutive è un passo molto importante ci dà secondo me anche come dire a noi più fiducia, più consapevolezza magari nel senso magari ora affronteremo anche le altre partite magari anche dall'inizio subito non magari come dire subendo un gol o aspettando un attimo l'avversario per i primi minuti Frosinone, Salernitana e Entella ovvero le tre grandi rimontate che ha subito il Pescara nonostante questo siete a meno uno dalla vetta, cosa significa? Sono stati sei punti persi perché comunque sia tre partite che meritano la vittoria e c'è un po' di rammarico però secondo me se siamo là in alto vuol dire che siamo forti comunque ci possiamo stare perché comunque sia anche se magari abbiamo avuto non un inizio con continuità però essere là in alto vuol dire che ci possiamo stare e che secondo me possiamo fare un campionato molto importante secondo me quella cosa che ci farà fare il salto di qualità è la continuità E ci sarà poco tempo per festeggiare perché martedì si tornerà in campo, ci sarà il turno infrasettimanale giocherete al Castellane di Empoli contro una squadra che oggi ha perso l'ultimo minuto L'Empoli secondo me è una delle pretendici al titolo comunque a vincere il campionato e noi andremo là a fare come sempre la nostra partita che sia l'ultimo in classifico alla prima noi andremo là a giocarcela Ti chiedo un'ultima cosa, eri lì da quelle parti se ci racconti un po' il gol decisivo di Pettinari È stato secondo me un movimento provato nel senso che Nando mi ha messo palla del sole nel taglio io ho cercato di rimettere in mezzo perché come potevo e poi ne sono stati fortunati perché il difensore che ha seguito me ha tenuto in gioco poi Pettinari quindi dopo è stato un merito suo che si è trovato lì da solo a far gol Una curiosità prima di restituire la linea allo studio, cosa vi ha detto Zeman e gli spogliatori se vi ha detto qualcosa dopo il primo tempo in cui nella prima mezz'ora avevate sofferto tanto? No, ci ha detto di continuare a giocare come abbiamo fatto magari gli ultimi 15 minuti del primo tempo quando abbiamo trovato anche il gol, di non alzarsi troppo e soprattutto di anche noi centrocampisti magari abbassarsi prima per poi andare in avanti e giocarla con le punte e con gli esterni